Ne abbiamo gli acquedotti pieni, chiusa l'armi pieni, ne abbiamo gli acquedotti pieni, chiusa l'armi pieni. Qui risposte ancora non ce ne sono, purtroppo la nostra continua a essere una presenza, una richiesta, fino a che queste risposte non arriveranno. Chiedevano risposte le mamme del Comitato Nofasa della zona rossa, si erano anche accampate per diversi giorni davanti al Palazzo di Giustizia di Vicenza. La risposta tanto attesa è arrivata, la procura ha chiuso l'indagine sull'inquinamento delle acque da FAS e FOA, quella relativa all'inquinamento storico. 13 le persone indagate, i reati contestati, lo ricordiamo, sono avvelenamento dell'acqua e disastro generico, in quanto riguardano i fatti antecedenti, il 2015, e le mamme tirano un sospiro di sollievo. Abbiamo lottato tutta estate e sono due anni che lottiamo affinché queste indagini vengano concluse velocemente. Finalmente le hanno concluse. Noi come cittadini vogliamo partecipare a questo processo, abbiamo un nostro avvocato che porterà avanti una causa nostra, perché vogliamo che venga fatta giustizia e vogliamo che i cittadini in primis siano attori di quello che ci sta intorno. Giustizia che dalla chiusura dell'indagine preliminaria al processo vero e proprio ha davanti a sé ancora molti mesi. Adesso le difese possono proporre le osservazioni che ritengono che saranno vagliate. All'esito di questa fase poi sarà deciso se richiedere il rinvio a giudizio, quindi se chiedere la fissazione di udienza preliminare al GIP. Se ne riparla per inizio estate, mentre sulla celebrazione di un possibile processo i tempi parlano di fine 2019, se non 2020. Se un'indagine si chiude, un'altra rimane ancora da concludere, quella relativa al recente inquinamento da Gen X, per la quale le mamme rimangono in attesa. Ci auguriamo che le indagini che devono essere ancora concluse vadano avanti e che invece queste che adesso si sono concluse portino a dei risultati concreti entro breve tempo. Abbiamo bisogno di giustizia, abbiamo bisogno che lo Stato italiano e la Procura dimostri veramente di essere dalla nostra parte, dalla parte dei cittadini.